I kit d'Intoino sono stati inventati per tutte quelle persone che non hanno competenze specifiche nella produzione di codice e di elettronica e servono per realizzare in modo semplice e intuitivo i propri progetti e ciò che si ha in mente. Quello che abbiamo fatto è stato realizzare un sistema che permettesse con oggetti plug and play come sensore d'attuatori e un computer di nostra invenzione di comporsi i propri progetti elettronici in maniera semplice e intuitiva e mediante un'app di scaricare sopra il codice e di costruire progetti sempre nuovi. Insieme ai ragazzi di One Way Out abbiamo pensato di provare a fare un'applicazione reale con l'utilizzo dei nostri kit Intoino. Quello che abbiamo fatto è stato posizionare all'interno della camera una delle nostre Intoino Core che sono diciamo così cervello disponibile nel nostro kit, dà la possibilità di costruire progetti di varie tipologie e come abbiamo visto applicato direttamente dentro la stanza controlla lo svolgersi dei giochi, controlla l'accensione, lo spegnimento di luci piuttosto che l'attivazione di giochi e di conseguenza è un po' il cervello e che sta dietro allo sviluppo di tutta quanta l'attività di gioco. Per quanto riguarda sviluppi futuri del nostro sistema o maggiore interattività rispetto a quanto provato all'interno dell'Escape Room naturalmente questo è un primo passo che abbiamo voluto fare con il nostro sistema ovviamente si può complicare di molto quella che è l'automazione, si possono creare giochi sempre più complessi, si possono creare dei giochi che magari possono diventare adattivi, di conseguenza essendoci un processore, un cervello c'è la possibilità di costruire giochi che reagiscono al modo in cui i giocatori stanno percorrendo il loro percorso all'interno della stanza e quindi far sì che la stanza evolva. Grazie 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 Grazie